Le nostre proposte concrete partono dalla constatazione che il livello di tassazione e di spesa pubblica che abbiamo raggiunto in Italia è tale da strozzare la crescita e soprattutto i cittadini. Quindi è chiaro che bisogna fare un punto, bisogna rivedere la spesa pubblica, tagliarla di sei punti per rimettere in condizione l'economia, i consumatori, le imprese, i lavoratori di ripartire. È impossibile immaginare di continuare nella strada delle patrimoniali, delle tassazioni che rischiano di mettere definitivamente in ginocchio l'Italia. La sorpresa positiva è stata che comunque i criteri erano stati quelli della meritocrazia, della competenza e della professionalità dei candidati, che quasi tutti veniamo o dal mondo delle professioni o dal mondo delle imprese. Per cui vogliamo portare questa professionalità nella politica, perché il Movimento si propone di fornire alla politica dei professionisti che hanno questa idea di rottura con la vecchia politica, ma che abbiano gli strumenti per operare questa rottura.